Operazione riscatto per la Torrese che supera 7-0, un penne giunto a Castelnuovo senza gli annascoli, Cacciatore e Calderaro, Lepre non ha meglio, si accomoda in panchina. Tra i giallorossi torna Di Lallo, 3-5-2 per Cristofale, davanti Lalli e Criscolo pronti a fare la guerra. In mediana Cernals chiamato a gestire i palloni caldi, sulle fronte ospite prima linea green con Di Fazio, Serti e Bianchini. Minuto 5, energia pura Criscolo, il 7 giallorosso ruba palla al Reale e giunto in area sbatte sullo sportello del difensore, per Amatangelo è calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Criscolo, occhi negli occhi con D'Amico ed è 1-0. Tredicesimo, reazione penne, ci prova Serti, non va. Diciasettesimo, ospiti in 10, contatto Reale di Federico per l'arbitro e fallo del calciatore Vestino, doppio giallo e dolce anticipata. Minuto 20, bussa ancora la Torrese, Di Federico offri per Lalli, rammendo D'Amico. Ventitreesimo, riappare la squadra di casa, Lalli sente la porta vicina e sa cosa fare. Il 9 giallorosso lucida la stecca e manda in buca d'angolo, 2-0. La Torrese non fa sconti, trentacinquesimo, ammucchiata in aria dal traffico, esce Lalli, il suo piede è ancora letale, 3-0. Trentottesimo, Di Razio estrai un pallone prezioso, Di Federico decolla ed è 4-0. Nella ripresa, subito Torrese, minuto 2, Bordatatini, fuori. Quinto, Criscolo al capolinea, alto. Diciannovesimo, Flipper in aria penne, Criscolo raccoglie, tiro carico di Vedenino ed è 5-0. Ventinovesimo, Gelsi dal colo centrale, apre per Puglia, che non gratifica la scelta del compagno. Gara chiusa, ma che? Minuto 44, Festa, apparecchia per Criscolo, tocco di prima ed è 6-0. Passa un minuto, Puglia prende la tangenziale, porta nel mirino ed è 7-0. È questa l'ultima emozione del match, da qui alla fine non si registrano altri sussulti. A Castelnuovo esce Torrese. Negli spogliatoi, spazio alle interviste. Sicuramente abbiamo fatto una grande prova, i ragazzi avevano chiesto di fare una prova di grande maturità, nonostante questo periodo brutto. Venivamo da tre partite senza fare gol, oggi c'era la cattiveria, la fame giusta di voler portare a casa il risultato. Però poi volevo sottolineare il fatto che sicuramente le partite vengono decise dagli episodi. Abbiamo sbloccato la gara su un rigore un pochettino dubbio, dopodiché c'è stata l'espulsione da parte loro, anche lì un pochettino dubbio, e poi la partita si è incanalata verso il risultato che è arrivato. Sicuramente l'essere rimasti in dieci così poco, così velocemente, è una situazione direi abbastanza dubbia. Già il rigore mi è sembrato troppo generoso, sinceramente, perché il nostro terzino colpisce la palla in maniera abbastanza netta, però viene punito con il calcio di rigore. E dopo su questo duello aereo ha preso questa decisione, dove ha lasciato un po' tutti sconcertati. È chiaro che poi il resto ce l'abbiamo messo noi.